e io maestro che è tanto grave allor che lamentarli fassi forte rispuose dicerolti molto breve questi non hanno speranza di morte e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi sono da ogni altra sorte e io maestro cos'è tanto grave doloroso allor che li fa lamentare così forte tanto rispose virgilio te lo dirò molto brevemente questi anime e angeli non hanno speranza di morte essere giudicati e la lor cieca vita cieca senza vedere buia è tanto bassa che sono invidiosi di ogni altra sorte adesso che sto solo iniziando a capire chi siano chiedo il perché si lamentino così tanto virgilio mi risponde che sarà breve nella risposta perché come se non volesse quasi la pena non volesse quasi la pena perderci troppo tempo su di loro lamentarli fassi forte ricordo perché tutto quel tumulto di suoni vocali e di mani che ho sentito varcata la porta proveniva proprio da loro questi non hanno speranza di morte è un verso decisamente particolare questi cioè l'anime triste mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli non hanno speranza ancora una volta la mancanza di speranza che caratterizza tutti i morti di morte interessante perché in quanto trovandoci negli inferi superata la porta della morte e in quanto visser e quindi al passato sono anime di persone che sono già morte a parte di angeli che sono eterni insomma sono già morti come fanno a non avere speranza di morte per spiegarti come chi è già morto possa provare speranza di morire ti ricordo una terzina di inferno 1 ove udirai le disperate strida vedrai gli antichi spiriti dolenti cala seconda morte ciascun grida le disperate strida le abbiamo già descritte gli antichi spiriti dolenti li incontreremo ma ciò che adesso mi interessa è che i dannati dell'inferno quindi tutti quelli che sono già morti col corpo e sono stati giudicati da minos gridando gridano alla seconda morte quindi contro quel giudizio universale che li giudicherà una seconda e definitiva volta e quando riacquisendo il corpo tranne angeli ed eccezioni soffriranno ancora di più queste anime che visser senza infamia e senza lodo non hanno speranza di morte né nella prima né nella seconda perché come dirò quando capirò davvero che sono questi mai non fur vivi come fa a morire chi mai è stato vivo sia nel senso letterale che in quello allegorico che il cristo è la vita a conferma prima morte intesa come giudizio di caron e seconda morte intesa come giudizio universale nessuna di queste due le riguarderà e per loro la vita è verbo essere al presente tanto bassa che adesso invidiano qualsiasi altro giudizio anche il più grave che è comunque giustizia rispetto a come adesso vivono loro in eterna assenza di giustizia dato che non sono stati giudicati nella prima morte e non verranno giudicati nella seconda morte nella terzina successiva dirò che la misericordia e la giustizia li sdegnano insomma sono sdegnati anche da dio che mai perderà tempo con loro cieca e termine infernale come cieco mondo in inferno 4 e cieco carcere in inferno 10 concludo facendoti ancora una volta riflettere sui tempi verbali utilizzati il virgilio che prima ha detto coloro che visser senza anfane senza lodo quindi al passato adesso dice e la loro cieca vita è tanto bassa quindi al presente prima di passare all'ultima terzina che usa virgilio per chiudere la sua descrizione di loro ci tengo a dirti che il pagano virgilio nell'eneida parla di colpe commesse tra i vivi che compiacendosi di un inutile frode ognuno differì di espiare oltre l'ora della morte quindi per vita e morte intende il periodo che inizia con la nascita terrena e finisce con la morte terrena gesù stravolge questo concetto affermandosi lui stesso come vita e quindi chi lo segue è vivo chi non lo segue è morto indipendentemente dal tempo trascorso sulla terra in paradiso chiamerò vite delle anime che dato che risiedono in paradiso sono letteralmente morte sulla terra mentre mi rivolgerò ai residenti dell'inferno chiamandoli veri morti fama di loro il mondo esser non lascia misericordia e giustizia li sdegna non ragioniamo di loro ma guarda e passa fama ricordo sulla terra del loro essere stati il mondo non lascia rimane misericordia paradiso e giustizia inferno li sdegnano non ragioniamo di loro ma guarda e passa oltre come dicevo riguardo alla seconda morte quindi al secondo giudizio quello universale neanche questo riguarderà loro e per questo loro sono invidiosi di tutti gli altri in quanto anche la misericordia e la giustizia li sdegna tre tre terzine fa ho scritto gloria e adesso fama che in linguaggio tecnico la prima riguarda quella presso dio la seconda quella presso gli uomini infatti scrivo il mondo misericordia può essere rivolta al giudizio di dio mentre giustizia al giudizio di minos che è quasi scontato da dire ma giudica i dannati comunque per conto di dio minos a cui fallar non lece non è lecito sbagliare non è possibile inferno 29 scopriremo che il tempo per il viaggio infernale è poco quindi non ne vale la pena dice virgilio e ciò che rappresenta di fermarsi a ragionare su di loro che neanche nel mondo terreno rimane fama ma guarda perché adesso si riesce a vedere qualcosa e passa perché non stiamo facendo il viaggio per ragionare di loro anticipo che dato che nel mondo non c'è fama di loro qualsiasi di loro conoscerò non potrà essere una specifica persona famosa in quanto appunto fama di loro il mondo esser non lassa per scrivere il verso non ragioniamo di loro ma guarda e passa mi sono ispirato di nuovo ad aristotile nel convivio scrivo sono molti di sì lieve fantasia che in tutte le loro ragioni transvanno e anzi che si logizzino hanno conchiuso e di quella conclusione vanno trasvolando nell'altra e pare loro sottilissimamente argomentare e non si muovono da un neuno principio e nulla cosa veramente veggiano vera nel loro immaginare e di costoro dice lo filosofo che non è da curare né da avere con essi faccenda dicendo nel primo della fisica che contra quelli che nega li principi disputare non conviene e di questi cotali sono molti idioti che non saprebbero l'abc e vorrebbero disputare in geometria in astrologia e in fisica e io che riguardai vidi un'insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni e posa mi parea indegna sdegnosa non si fermava mai e dietro all'insegna veniva una così lunga fila di gente che io non avrei creduto prima del viaggio che così tanta gente la morte ne avesse disfatta il maestro mi ha detto guarda e passa quindi io riguardai meglio adesso che la mia vista riprendeva a funzionare e vidi un'insegna talmente veloce che non poteva fermarsi in nessuna posizione e momento insegna rima con sdegna e indegna ho appositamente scelto un termine vago insegna non descrivo niente che la caratterizzi in quanto oggetto non ha forma non ha colore non ha simboli disegnati non è quindi solo la bandiera di una famiglia arte città fede questa insegna non si muoveva come un oggetto ma correva come un animale e come animali in branco gli vanno inutilmente dietro eccola la lunga tratta che non usa la ragione ma segue il branco come le pecore come spiegano il convivio lo pensiero è proprio atto della ragione perché le bestie non pensano che non ce l'hanno e non dico pur le delle minori bestie ma di quelle che hanno apparenza umana e spirito di pecora i morti sono definiti più volte animali basti pensare inferno 8 dove virgilio respingendo un dannato tra gli altri non dice torna dagli altri uomini ma appunto via costa con gli altri cani tornando all'insegna questa in nessun modo si fermava in nessuna posizione posa costantemente ed eternamente movimento ratta ormai lo sai è una variazione di molto veloce istantaneamente che abbiamo trovato e troveremo al mondo non fur mai persone ratte inferno 2 ratto che inteser le parole crude tra poco amor calcol gentil ratto saprende inferno 5 questa insegna che mai si ferma è seguita da una fila di gente così lunga che non pensavo che tanti fossero morti così durante il viaggio vedrò tantissimi morti in un inferno che va via via rimpicciolendosi ma appena superata la porta degli inferi ne vedo così tanti tutti insieme vissuti e che allegoricamente vivono in questo modo che non credevo che la morte così tanti ne avesse colpiti anzi disfatti gente termina anch'esso generico tra di loro ricordiamoci che ci sono mischiati anche quegli specifici angeli che morte tanta n'avesse disfatta un verso che come e caddi come corpo morto cade l'inferno 5 è caratterizzato da una forte musicalità dovuta anche alla ripetizione di vocali e consonanti la e che morte avesse la a tanta avesse disfatta la t morte tanta disfatta io in questa occasione ti sto spiegando il significato di ogni mio verso ma concediti il piacere sia prima che dopo aver capito il senso di leggere e rileggere com'è scritto che tanta che morte tanta n'avesse disfatta che morte tanta n'avesse disfatta che morte tanta n'avesse disfatta ancora morte in questa sottile linea di confine che separa questo concetto da quello di vita questi sono morti col corpo certo perlomeno nel senso letterale per essere più precisi non sono mai stati vivi e hanno superato la porta della morte ma tra di loro ci sono anche angeli che sono eterni e che il corpo non l'hanno mai avuto essendo solo spirito se invece per morte intendiamo il giudizio di minos neanche quegli angeli lo hanno ricevuto non credevo che la morte ne avesse uccisi così tanti proprio e solo di questo tipo di gente significa anche che non credevo che così tanta gente fosse vissuta e allegoricamente viva ancora in questo modo certo la morte ne uccide tanti senza mai fermarsi ma tra poco una nave porterà una folla di morti all'altra riva del fiume e il tempo che arriverà di là già la prima riva sarà di nuovo piena di altri che nel frattempo sono morti col corpo e hanno desiderio di morire compiutamente essere giudicati ma in questo punto mi meraviglio di quante persone vivano e muoiano proprio e solo in riferimento a questo modo e la loro cieca vita è tanto bassa adesso ti è necessario ascoltare questo passo del convivio che richiama a sua volta altre citazioni quando si dice e tocca a tal che è morto e va per terra a maggiore detrimento dico questo cotale vilissimo essere morto parendo vivo onde è da sapere che veramente morto lo malvagio uomo dire si puote e massimamente quelli che dalla via del buono suo antecessore si parte e ciò si può così mostrare siccome dice aristotile nel secondo dell'anima vivere è l'essere degli viventi e perciò che vivere per molti modi siccome nelle piante vegetare negli animali vegetare e sentire e muovere negli uomini vegetare sentire muovere e ragionare ovvero intelligere e le cose si devono denominare dalla più nobile parte manifesto è che vivere negli animali è sentire animali dico bruti vivere nell'uomo è ragione usare dunque se il vivere è l'essere dell'uomo è così da quello uso partire è partire da essi e così è essere morto e non si parte dall'uso del ragionare chi non ragiona lo fine della sua vita e non si parte dall'uso della ragione chi non ragiona il cammino che fare dè certo si parte e ciò si manifesta massimamente con colui che ha le vestige innanzi e non le mira e però perciò dice salomone nel quinto capitolo degli proverbi quelli muore che non ebbe disciplina e nella moltitudine della sua stoltezza sarà ingannato ciò è a dire colui è morto che non si fè discepolo che non segue lo maestro e questo vilissimo è quello potrebbe alcuno dicere come è morto e va rispondo che è morto uomo è rimasto bestia dopo che lì io ebbi alcuno qualcuno riconosciuto conosciuto di nuovo vidie conosciuto per la prima volta l'ombra di colui che per viltà paura di compiere grandi imprese fece il gran rifiuto terzina da analizzare con attenzione perché se letta distrattamente apre a molte interpretazioni ma se studiamo ciò che ho scritto l'interpretazione fedele quella che coincide a ciò che volevo intendere con le mie parole rimane una alcun è una parola con doppio significato quando il contesto è positivo significa qualcuno calcuna qualche gloria i rei avrebbe erdelli inferno 3 e salcun qualcuno ve giusto inferno 6 mentre quando il contesto è negativo significa nessuno io non vi discernea alcuna nessuna cosa inferno 4 e soli eravamo essenza alcun nessun sospetto inferno 5 dopo aver appena chiarito il doppio senso che ha la parola alcun citando inferno 3 4 5 6 a conferma che nel caso in esame alcun significhi che qualcuno l'ho riconosciuto in inferno 7 scrive un verso molto simile dovrei ho ben riconoscere alcuni qualcuno nella mia opera avremo modo di approfondire il significato letterale allegorico che sta dietro alle anime dei defunti che io dico di conoscere o riconoscere per anticipare un caso particolare tra gli usurai chi presta soldi a usura ricavando dal denaro del denaro e non dal lavoro io dico non ne conobbi alcuno nessuno inferno 17 ma questa terzina ha una particolarità che è sufficiente a spiegarne il significato attenzione alle parole che uso i sinonimi non esistono il verbo usato non è lo stesso le situazioni sono diverse dopo che io ebbi qualcuno riconosciuto quindi prima riconosco qualcuno quindi lo conosco di nuovo riconosciuto qualcuno che già conoscevo e ho appunto riconosciuto poi soltanto conosciuto quindi conosco qualcuno che vedo per la prima volta come il conobbi etor edenea del canto successivo quando vediamo una persona che sappiamo chi è diciamo che abbiamo riconosciuto quella persona quando invece la vediamo per la prima volta diciamo che abbiamo conosciuto una nuova persona anche questo è un richiamo virgiliano infatti cito la fenicia di done errava nella vasta selva appena l'eroe troiano le ristette vicino e la riconobbe tra le ombre la conoscevo bene qui io guardando tra la folla riconobbi qualcuno che avevo già visto poi vidi ancora e conobbi per la prima volta una persona nuova e specifica una persona che te lo ricordo perché è fondamentale si trova tra color che fama di loro il mondo esser non lascia quindi non può essere nessun nome famoso perché i famosi qualsiasi sia il motivo che li abbia resi tale hanno appunto fama nel mondo sono famosi e il loro nome è ancora conosciuto di tutti questi invece tutti nel mondo non c'è più ricordo del loro nome virgilio mi aveva già detto che non c'era tempo da perdere dietro questi e infatti la caratteristica propria di queste ombre è detta di questa ombra la specifica è detta in un solo verso in undici sillabe e senza citare inutilmente un nome non riconoscibile a nessun famoso che fece per viltade il gran rifiuto questa persona fece per viltà quindi l'opposto della magnanimità che porta a compiere grandi imprese il gran rifiuto non un generico gran rifiuto ma il specifico gran rifiuto proprio quello lì il punto cardine del mio viaggio è il Cristo e il suo messaggio e te lo sto ripetendo dal terzo verso della mia opera che la diritta via era smarrita richiamando proprio Gesù che disse io sono la via la verità la vita lui è la via è appunto la vita lui è colui che porta alla città di Dio lui è colui che addirittura in paradiso dove sono tutti salvi divide le anime in due parti quelli che credettero in lui che lui sarebbe venuto e quelli che credettero in lui già venuto paradiso 33 nel Vangelo di Matteo c'è scritto rispose Simon Pietro tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente e Gesù beato te Simone figlio di Giona perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato ma il padre mio che sta nei cieli e io ti dico tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa la chiesa di Gesù è fondata su di una persona che aveva Gesù in carne e ossa proprio davanti a lui che gli parlava ma che ha avuto la rivelazione di chi lui fosse e rappresentasse prima di vedere fisicamente la sua morte e la sua resurrezione né la carne né il sangue te l'hanno rivelato e chi è quindi colui che fece per viltà del gran rifiuto rifiutando quindi il Cristo ma di cui non sappiamo il nome dato che il mondo non ha più la fame di lui vi è un episodio raccontato in tre Vangeli Marco, Matteo e Luca cito Matteo ed ecco formula che ritrovi nella mia comedia e che ho volutamente inserito anche in questo canto per farti giungere a questo richiamo delle scritture un tale del quale appunto parlano tre Vangeli ma di cui nessuno cita il nome gli si avvicinò nel mio canto scrivo tra poco ed ecco verso noi venire e gli disse maestro cinque volte uso questa parola in questo canto e tutte cinque il maestro dice o io dico al maestro come in questo caso che cosa devo fare di buono per ottenere la vita concetto cardine eterna e gli Gesù rispose perché mi interroghi su ciò che è buono anche anima buona è un collegamento a questo canto uno solo è buono se vuoi entrare nella vita eterna dato che sta parlando con un vivo osserva i comandamenti ed egli chiese quali Gesù rispose non uccidere non commettere adulterio non rubare non testimoniare il falso onore il padre e la madre ama il prossimo tuo come te stesso il giovane gli disse ho sempre osservato tutte queste cose che mi manca ancora gli disse Gesù se vuoi essere perfetto vivo va vendi quello che possiedi dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo poi vieni e seguimi udito questo il giovane se ne andò triste poiché aveva molte ricchezze eccolo il gran rifiuto quello di seguire Cristo ed ecco di nuovo la lupa d'inferno 1 non lascia altrui passare per la sua via ma tanto l'ompe dice che l'uccide li uccide la lupa non fa arrivare alla vita eterna ma al regno dei morti e ancora in riferimento a tutto ciò sempre in inferno 1 sempre in riferimento al Cristo alla lupa e a ciò che rappresentano e quale è quei che volentieri acquista e giugne il tempo che perderlo face e che in tutti i suoi pensieri piange e sattrista la perdita del patrimonio terreno non deve rattristare chi punta la vita eterna e invece questo giovane ricco venendo a conoscenza che doveva perdere il suo patrimonio terreno anche se in cambio di un tesoro nel cielo reagisce proprio come nella similitudine il giovane se ne andò triste poiché aveva molte ricchezze precisamente piange e sattrista devo necessariamente citare un'altra terzina conferma delle conferme inferno 19 nostro signore Cristo imprima da San Pietro che i ponesse le chiavi in sua balia fondò la chiesa certo non chiese se non vienmi dietro e per ottenere la vita eterna Cristo anche in questo caso risponde proprio vendi quello che possiedi dallo i poveri e avrai un tesoro nel cielo poi vieni e seguimi un'altra conferma dagli atti degli apostoli sempre riguardo al fatto che senza distaccarsi completamente dalla materialità non si può conoscere unirsi a Gesù e quindi si muore un uomo di nome Anania con la moglie Saffira vendette un suo podere e tenuta per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli ma Pietro gli disse Anania perché mai Satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno tu non hai mentito agli uomini ma a Dio all'udire queste parole Anania cadde a terra espirò quindi morì la stessa sorte spetterà anche alla moglie che era d'accordo con lui sull'imbroglio quindi morì non lascia altrui passare per la sua via ma tanto lo impedisce che l'uccide se ti sembra che il giovane ricco non si meriti questo trattamento perché ha rispettato i comandamenti cito un discorso di Agostino non basta ad alcuno non fare male se non faccia anche bene né fare bene se non si astenga dal male incontanente intesi e certo fui che questa era la setta di cattivi a Dio spiacenti e a nemici sui allora immediatamente intesi capì e fui certo che questa era la setta gruppo dei cattivi che non piacciono né a Dio né ai suoi nemici ai demoni Virgilio mi aveva spiegato chi erano e perché si trovavano lì coloro che vissero senza infamia senza lodo e la loro ciega vita è tanto bassa ma solamente dopo che riguardai e poscia che io vebbi alcuno riconosciuto vidi e conobbi che realmente fossero questi loro non sono chi vissero e chi vive con viltà ma come scrivo nel verso successivo questi sono gli sciaurati che mai non fur vivi non sono quindi coloro che in vita non si sono distinti tra gli uomini irrilevante ma coloro che non hanno mai vissuto ripeto ciò che ti ho già spiegato nel convivio che riprende tanti di questi punti cito e tocca a tal che è morto e va per terra e maggiore detrimento dico questo cotale vilissimo essere morto parendo vivo onde da saper che veramente morto lo malvagio uomo dire si puote e massimamente quelli che dalla via del buono suo antecessore si parte vivere è l'essere degli viventi è perciò che vivere per molti modi e le cose si devono denominare dalla più nobile parte manifesto è che vivere negli animali è sentire animali dico bruti vivere nell'uomo è ragione usare concluderò questa mia autocitazione tra poco perché si ricollega al mio non di partire chiesto da Caron per adesso mi basta citarla fin qui per spiegarti che intesi e certo fui che questi non sono coloro che non si schierarono ma coloro che mai non fur vivi vivere per l'uomo significa usare la ragione e loro non furono mai vivi in quanto uomini in quanto mai usarono la ragione ma vissero come citato non da uomini ma da animali bruti e citando inferno 26 isolando il contesto fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtù e conoscenza insomma noi uomini non siamo stati fatti non creati per vivere come gli animali ma per usare la ragione e seguire la virtù e la conoscenza ricordo che mangiare dall'albero sbagliato quello della conoscenza condannò Adamo alla morte a dio spiacenti e a nemici sui ripete il concetto già espresso da Virgilio caccia l'icel per non essere men belli nello profondo inferno li riceve questi sciaurati che mai non fur vivi erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi e le rigavan lor di sangue il volto che mischiato di lagrime a loro piedi da fastidiosi vermi era ricolto questi sciagurati miserabili che mai non furono vivi erano nudi e molto stimolati e punti da mosconi e vespe che erano lì queste provocavano ferite che rigavano segnavano con righe il volto di sangue che mischiato di lacrime era raccolto ai loro piedi da vermi fastidiosi schifosi questi sciagurati non furono mai vivi come uomini vissero e vivono come bestie la loro cieca vita è tanto bassa e quindi come animali sporchi sono torturati da altri animali quali mosconi vespe e verni mentre inseguono un astratto capobranco anch'essa citazione biblica da Isaia il signore farà un fischio alle mosche e alle api chi vive come un animale sulla terra vive come un animale nell'aldilà perlomeno nel senso letterale come bestie tra le bestie verranno descritti anche gli racconti di inferno 8 quanti si tengono or lassù gran regi che qui staranno come porci in brago e poco prima via costicco gli altri cani la loro condizione è davvero spiacevole questi si muovono tra i vermi che raccolgono il loro sangue mescolato alle loro lacrime mentre inseguono una irraggiungibile generica insegna che mai si ferma e mosconi e vespe li pungono anche letteralmente vanno in branco come bestie nello sporco e seguono chi gli sta davanti senza usare la propria ragione dal testo si evince che la velocità inarrestabile dell'insegna sia decisamente superiore rispetto a quella del branco che dietro le venia e il turbospira di terzine precedenti può lasciare l'idea di un vortice formato da questa insegna velocissima con questa gente quasi intrappolata dietro dentro e dietro la nudità il sangue e l'acqua delle lacrime rappresentano la vita anche per gli animali questi sciagurati non furono mai vivi come uomini infatti vissero e vivono come animali anche in questa condizione appena descritta c'è un eco del nuovo testamento nell'apocalisse infatti c'è scritto conosco le tue opere tu non sei né caldo né freddo né caldo magari tu fossi freddo o caldo ma poiché sei tiepido non sei cioè né freddo né caldo sto per vomitarti dalla mia bocca tu dici sono ricco mi sono arricchito non ho bisogno di nulla ma non sai di essere un infelice un miserabile un povero cieco e nudo di ricco infelice povero e cieco te ne ho già parlato adesso ho completato l'elenco aggiungendo miserabile sciagurati e nudo ignudi insisto ancora sulle parole mai non fur vivi perché questo ciò che realmente li caratterizza dopo le spiegazioni date dal pagano Virgilio infatti solo adesso incontanente intesi e certo fui intanto eccitazione dalla biblica dalla biblica si racide di altri non sussiste memoria svanirono come se non fossero esistiti furono come se non fossero mai nati un oggetto non può essere considerato vivo una pietra ad esempio non può di certo far parte del regno dei vivi quindi di conseguenza sta in quello dei morti se avesse avuto la ragione quindi potesse essere stata giudicata ma neanche lì nel regno dei morti può essere considerato un vero morto in quanto come può essere considerato morto un qualcosa che non è mai stato vivo citando il convivio lo non vivere non offende la vita ma offende quella la morte che è di quella privazione onde altro è morte e altro è non vivere che non vivere è nelle pietre insomma dopo che Virgilio mi ha parlato del loro vissero e della loro vita adesso io capisco che più precisamente questi più che morti non sono mai stati vivi come uomini essere vivo per un uomo è usare la ragione questo lo distingue dagli altri animali e questi qua la ragione non l'hanno mai usata mai sono stati vivi in quanto uomini mentre per l'io cristiano la vita è seguire Cristo ritorniamo sul testo i primi veri morti i primi che troviamo in inferno 5 dopo il giudizio di Minos sono descritti da Virgilio come coloro che la ragione sommettono al talento desiderio sessuale nel caso questi quindi la ragione la usarono per questo sono puniti ma sono puniti e allegoricamente vivono per averla sottoposta al desiderio sessuale per questo possono essere puniti ripeto i primi abitanti invece questi di adesso la ragione non la usarono e quindi per cosa possono essere giudicati e puniti questi non hanno speranza di morte e la loro cieca vita è tanto bassa che invidiosi sono da ogni altra sorte ogni altra sorte anche la peggiore è comunque da loro invidiata perché comunque significa essere morti essere giudicati quindi comunque essere compresi in quella giustizia che mosse il mio alto fattore la morte intesa come giudizio di Minos riguarda anche per fare due esempi Papa Bonifacio VIII e frate Alberigo che avevo avrò già la previsione che risiederanno nel regno dei morti anche se quando compio il viaggio sono ancora vivi col corpo sulla terra questa non è un'incongruenza ma un diverso tipo di livello di lettura come la lupa di Inferno 1 che di certo è una femmina di un lupo ma è anche la cupidigia e anche la chiesa di Roma lacrime e sangue è anch'essa una mia variazione di un passo fondamentale del nuovo testamento che ho già citato che si trova nel Vangelo di Luca lì il sudore dell'angoscia diventa sangue io aggravo la situazione non parlando più di sudore ma di lacrime adesso cito questo passo dove Gesù pregando il padre dice tuttavia non sia fatta la mia ma alla tua volontà e quale quei che disvolge o che volle Inferno 2 gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo mentre chi rovinava in vasso loco dinanzi agli occhi mi si fu offerto Inferno 1 in preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra e le rigavano l'or di sangue il volto che mischiato di lacrime a lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto Inferno 3 rigare il viso di lacrime e anche citazione virgiliana rigava il viso di largo pianto tre volte cercò Enea di circondargli il collo dell'anima del padre morto con le braccia più volte in vano afferrata l'immagine sfuggita alle mani ho completato la citazione perché questo cercare di abbracciare le anime dei defunti lo farò anche io in Purgatorio 2 Erano i nudi Non sempre mi soffermo sul fatto che i morti sono nudi Quando lo faccio è perché voglio sottolinearlo Questa gente è nuda proprio come gli animali e ti anticipo che non è assolutamente vero che l'essere nudi è la condizione di tutte le anime dell'oltremondo Incontrerò anime che senza corpo vivono dentro delle piante Inferno 13 anime vestite con cappe di cappucci bassi dinanzi agli occhi Inferno 23 anime che senza corpo sono fuoco Inferno 26 Finisco qui le due diverse descrizioni dei primi abitanti che trovo varcata alla porta degli inferi e devo farti notare un dettaglio Le descrizioni riguardanti questo gruppo sono appunto due e sono ben diverse La prima mi viene fatta dal pagano Virgilio quando io sono appena entrato e sento soltanto il tumulto Il pagano non solo cita il nome Dio ma parla anche dell'angelo Lucifero che si ribellò al vero Dio Il pagano mi dice che queste anime finisce qui la spiegazione del pagano Virgilio e di ciò che rappresenta perché smette di parlare che smette di parlare quando ripeto io ancora non vedevo quasi niente e qui arriva il cambiamento del quale ti parlavo perché io cristiano inizio a vedere e inizio a usare termini quali e io che riguardai vidi riconosciuto vidi con obbi per concludere con un verso che confermi in modo definitivo ciò che ti sto spiegando cioè che le descrizioni sono due incontanente intesi e certo fui il contesto cambia quando io cristiano che scrivendo il libro ho già svolto il viaggio ma che comunque adesso che ti sto scrivendo ciò che capii immediatamente a viaggio in corso infatti inizio a usare queste parole vidi e con obbi l'ombra di colui descritto nei Vangeli che fece per viltà del gran rifiuto incontenente inteso e certo fui che mai non fur vivi insomma non è che vissero e vivono come descritto proprio da Virgilio ma più precisamente fui subito certo quando iniziai a vedere che questi mai furono vivi cosa vuol dire essere vivo per un cristiano se non conoscere unirsi al Cristo che è la vita infatti riprendendo la citazione proprio dai due versi che avevo saltato che questa era la setta di cattivi addio spiacenti ai nemici sui i primi abitanti che incontro barcata la porta degli inferi non sono coloro che genericamente rimasero neutrali o che non si distinsero tra gli uomini ma quelli che concretamente non scelsero né la vita e quindi Dio né la morte e quindi Dite non usarono la ragione seguendo Dio ma neanche la sottomisero seguendo Dite e per questo letteralmente quando moriranno col corpo supereranno la porta della morte degli inferi ma non saranno voluti né dagli angeli né dai demoni nello specifico anticipando non sono voluti né dall'angelo che fa attraversare in barca il tratto d'acqua che porta al purgatorio né dal demone che fa attraversare in barca il tratto d'acqua che porta all'inferno ultima conferma delle conferme che ho confermato l'angelo di purgatorio 9 difende la porta che conduce alla vita con una spada che riflettea i raggi e nella Bibbia Dio dopo che Adamo ed Eva hanno mangiato dall'albero della conoscenza unione del con il bene e del con il male furono destinati alla morte grande riferimento agli abitanti appena incontrati citolo Genesi Dio scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i angeli cherubini e la fiamma della spada folgorante riflettea i raggi per custodire la via dell'albero della vita grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti